Nuova vita per nuove avventure, questo è lo slogan dell'iniziativa del gruppo scout Caltanissetta 4, lanciata anche attraverso i social per rintracciare vecchi uniformi in buono stato da poterli utilizzare. Il nostro intento è quello di cercare di reperire quante più pezzi dell'uniforme, che siano camice o con i pantaloni o pantaloncini, che sono ad invecchiare nell'armadio. Invece sarebbe più utile che avessero una nuova vita indossa dei ragazzi, che tra l'altro alcuni dei quali purtroppo non possono comprarle perché gli uniformi costano. E quindi abbiamo deciso di fare questa iniziativa, di lanciare questa proposta alla collettività agli ex scout, che tra l'altro il nostro gruppo ha anche 60 anni, quindi ci sono tantissimi ex scout che avranno sicuramente queste uniformi da poterci donare. E proprio questa ricorrenza verrà celebrata nei prossimi mesi. Questo è il 60esimo anniversario, noi compiamo 60 anni, quindi dall'anno nuovo faremo anche delle altre iniziative proprio per cercare di rendere noto e di coinvolgere anche la cittadinanza per questa bella storia, questa storia che porta il nostro gruppo Caltanissetta 4. Noi abbiamo attualmente tre branche, abbiamo i lupetti, la branca LC, che sono quelli che i bambini sono più piccoli, sono dagli 8 ai 12 anni, la branca IG, che è il reparto, quindi abbiamo ragazzini di età intermedia tra i 12 e i 16 anni, ed infine la branca RS, che è il clan sostanzialmente, che raccoglie ragazzi fino all'età dei 20 anni, e poi ovviamente a dirigere l'orchestra, se così si può dire, c'è la comunità capi. Noi, le nostre attività sono prevalentemente nel bosco, soprattutto il reparto, invece il clan ne fa anche, le caratteristiche del clan sono la strada e anche il servizio, si mettono a disposizione della collettività o di chiunque ne ha bisogno. Infatti loro faranno tra poco un'attività invernale, andranno a fare servizio presso Biagio Conte, proprio nello spirito della branca stessa, mettersi a disposizione degli altri. Attualmente sono circa 130 componenti suddivisi tra le varie branche, ma il gruppo è sempre pronto ad accogliere nuovi scout. Lo scoutismo abbraccia tutti, di qualsiasi età, di qualsiasi classe sociale, di qualsiasi parte della città. Noi invitiamo tantissimo, soprattutto i ragazzi, a partire quasi subito, quindi dagli 8 anni, a fare parte dello scoutismo. Noi accettiamo anche magari adulti o già ragazzi, anche di più grandi, anche tra i 17, 16, 18 anni, che vogliono entrare a far parte del mondo scout.